L'istituto di professione moda garantirà un'alta formazione a tutti gli interessati per diventare realmente dei professionisti capaci di operare in questo settore sempre più basso e competitivo. Il corso è riguardo a tutti coloro che sono interessati ad operare in un settore della moda che è in continuo mutamento. Fondamentalmente il nostro piano di studio è talmente completo e basso che garantirà una formazione perfetta e globale, multidisciplinare e costantemente aggiornata che permetterà a tutti gli allievi realmente di lavorare nel mondo della moda. Ci saranno tante ore di lezione dedicate alla teoria ma soprattutto tante ore dedicate e destinate a quella che sarà la pratica perché fondamentalmente sappiamo per certo, è stato che sono professionisti del settore che alcune formazioni restano leggermente scadenti perché non è prevista una pratica necessaria per imparare realmente questo lavoro. Sappiamo noi per certo, e secondo dei creativi, che la creatività è il motore di crescita personale ma soprattutto di rilancio per un settore che potrebbe diventare importante anche nella nostra splendida regione, Monise, che finora non è stata mai in prima linea per promuovere un tale settore. Vi aspettiamo numerosi, sappiamo che c'è tanta curiosità legata al nostro progetto, noi siamo estremamente contenti di partire qui a Campopasso e restiamo a disposizione per tutti gli interessati per ulteriori informazioni riguardanti al nostro corso.